Definire ora il dente e il margine di preparazione. Attivando il pulsante segna dente. Definire il numero del dente, nonché il tipo, il materiale e il colore per il restauro. Cliccare su Salva. Cliccare quindi sul dente nel modello corrispondente alle informazioni inserite. Le impostazioni verranno salvate automaticamente per il dente contrassegnato. Il margine non verrà identificato automaticamente. In alternativa, utilizzare il pulsante segna preparazione. Definire ancora una volta il numero del dente, nonché il tipo, il materiale e il colore per il restauro. Cliccare sull'area di preparazione. Questa volta il software identifica automaticamente il margine di preparazione. Per regolare il margine di preparazione o per disegnare manualmente un margine, utilizzare il pulsante Disegna margine. Disegna o corregge un margine, trascinando, eliminando, o aggiungendo punti ed eliminando margini. Controllare il risultato finale prima di procedere.